Stai facendo, fanno patto Si, si Pace, pace Pace But it's not bringing you home Siya lang nakaseatbelt pa As if hope was a pill Or a bottle or a phone Okay good morning Aniyan family Sandito na kami sa Il mio papà è stato il mio figlio e il mio figlio è Dylan Plano di questo Roza gli noi sono uccananti Il mio figlio è stato presto Ma sopra per il mio postio Adesso abbiamo una proprietà ciao, ciao, ciao 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 siamo in la Mall of Asia so siamo in giocco come go siamo in giocco siamo in giocco siamo in giocco si alammi non c viene in giocco siamo in giocco siamo in giocco siamo in giocco siamo in giocco e non ci sono i C.R. e non ci sono i C.R. e non ci sono i C.R. e ho fatto questo è il mio plano di fare con il biscoito. poi poi dove ho avuto il biscoito dove ho piatto con il costume e il mask. oh! non ci sono un'accazione non ci sono un'accazione è un'accazione prima è un'accazione sono stati di casa c'è la musica è ancora un'accazione Bora. Ricorda. Avvierci. Ricorda. 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 Sì, 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 sì. C'è questo? Qu'è il suo tempo? Qu'è il suo tempo? Qu'è più tempo? Qu'è più tempo? Qu'è più tempo? È un problema. Qu'è più tempo? Questo non lo sapego. Non lo sapego. O che è quello? E' il suo tempo? inizia io ho riuscito no si no ma no ma no si no vabbè si ma si No, non ho capito, non ho capito. si chiede si chiede hai 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 è un po' si chiede ah si chiede si chiede si chiede si chiede si 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 60 si 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.